A Climaus quest'anno è presente tutta la famiglia Isotec per isolamento di tetti e pareti. Il prodotto ha un'estrema validità a livello di isolamento termico con una conducibilità termica dichiarata di 0,022, un'estrema compatibilità con gli elementi di rivestimento da porre successivamente come finitura a tetto a parete ed è adatta sia ad interventi di nuova costruzione che per interventi di riefficientamento energetico di costruzioni già esistenti. Quello che lo caratterizza è proprio l'estrema maneggevolezza del pannello che si concretizza in una grande rapidità di esecuzione. Una delle novità presentate è il pannello Isotec parete nella versione black con una classe di reazione al fuoco BS2D0 che viene proposto quest'anno anche con il correntino nero, molto utile nei casi di rivestimenti fugati come lastre in ingresso o in HPL. Il correntino nero sarà opzionale anche sul pannello standard Isotec parete.